La droga ormai non è soltanto davanti alle scuole, ma arriva fino all'interno delle aule. I carabinieri, in collaborazione con la Procura dei Minori di Torino, hanno notificato sette misure cautelari ad altrettanti minorenni. Altre dieci persone, anche giovani, sono invece indagate a piede libero. L'inchiesta è scattata dopo la segnalazione del direttore dell'Istituto Alberghiero Colombatto di Torino e ha permesso di ricostruire una rete di spaccio che, partendo dall'Istituto, si estendeva al capoluogo e ad alcuni comuni limitrofi. Un giovane, nell'ambito dell'inchiesta, è finito agli arresti domiciliari, disposti anche due obblighi di firma, due obblighi di dimora, due collocamenti in comunità. L'utilizzo da parte dei carabinieri di unità cinofile ha permesso anche di sequestrare dosi, semi e piante di sostanze stupefacenti, oltre a tutto il necessario per confezionare la droga. Si parla anche di sigarette elettroniche all'asciscio o alla marijuana, costruite smontando vaporizzatori portatili e fumate in una scuola. Spiega il dirigente scolastico Claudia Torta. Un'insegnante è arrivata da me e mi ha detto di aver visto un ragazzo di prima che sventolava una bustina di droga. La presentava ai compagni come se fosse una brioche. A quel punto ho deciso di dire basta. La maggior parte dei ragazzi coinvolti nell'inchiesta risiede a Vaie, un paesino della Valle di Susa in provincia di Torino. Nel corso delle perquisizioni i militari dell'arma hanno sequestrato a casa di un ragazzo da poco maggiorenne un armadio adibito a Serra per la coltivazione della marijuana. Lo spaccio a scuola, ma anche alla stazione ferroviaria del paese, era su ordinazione. Per mettersi d'accordo sulla quantità della droga da consegnare era stato inventato un vero e proprio codice. Quest'inchiesta, conclude la preside, è un grande aiuto alla scuola. Ho ritenuto opportuno procedere in questa direzione per tutelare i ragazzi. E ritengo fondamentale continuare così. Lo spaccio all'interno delle scuole è un fenomeno che va fermato, dice il procuratore minorile di Torino, Anna Maria Baldelli, a conclusione dell'inchiesta. Insieme alla famiglia, ha detto il magistrato, la scuola è l'agenzia più importante nella costruzione dell'educazione dell'essere umano. Bisogna prestare particolare attenzione a fenomeni che devono essere fermati e lo spaccio è tra questi. Le scuole che fingono che il problema non esista sbagliano. Non affrontare questi problemi significa gravarli ulteriormente. Secondo Baldelli, nessuna soluzione preconfezionate, ma se il problema viene alla luce è possibile che si impostino delle soluzioni. La sfida, ha concluso, è costruire modalità di intervento personalizzate.